Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono qui per il progetto di Melania Costantino, un Nobel per te. Un progetto sui Nobel per la letteratura maschili, perché per chi se lo ricorda io avevo già partecipato a quello per i Nobel femminili, che era 14 donne per 14 Nobel, che però avevo fatto la recensione, avevo dato la mia opinione, sul canale di Nick Ducavon P. E invece a sto giro facciamo i maschietti. Allora, Melania ci ha sorteggiato sia l'anno del Nobel che il nome che doveva uscire, e a me è toccato in sorte, ci provo, ho cercato pure la pronuncia su Google, ma proviamo. Simus Hini, dovrebbe essere questo il nome, che è questo qua. Ehm, che è stato premio Nobel nel 1995. Ehm, ed è un poeta. Un momento di silenzio quando ho capito che era un poeta. Allora, devo fare una grandissima premessa. Io non sono per la poesia. In che senso? Non mi dice niente. C'ho la sensibilità di un sasso. Purtroppo, io mi rendo conto che è una grande mia pecca, perché la poesia è bellissima, è esprimere sentimenti, è una cosa bellissima. Però purtroppo a me dicono niente. Quindi, visto che l'anno scorso avevo letto Milk and Donnie di Rupi Kaur, e non mi era piaciuto per niente, avevo detto, vabbè, lasciamo perdere la poesia. Quest'anno, vuoi il destino, vuoi il caso, ci riproviamo. Però ci riproviamo con un signor poeta, perché comunque si ha vinto il Nobel. Proprio il primo sprovveduto, non è. Allora, io ho scelto la lantana di Biancospino dopo una serie infinita di digiri per le biblioteche della zona senza successo. E quindi mi sono puntata sull'ebook, che è questa versione qua, perché in realtà di questa raccolta qui esista anche il cartaceo, per chi avesse piacere di recuperarlo, se qualcuno amante della poesia. La lantana di Biancospino, che è stato pubblicato nel 1987. Allora, come vi dicevo appunto, io non sono un amante della poesia, quindi vi posso dire molto poco. Se non che, nonostante io non sia un amante, ho apprezzato alcune poesie, di cui però non di tutto mi ricordo le cose, perché non mi dicono niente, me ne dimentico. Vi posso dire che quello che mi è piaciuto più di tutti è stato Spazi vuoti, che è dedicato alla mamma. Margaret Caitlin McCann, spero si dica così. Che sono otto poesie dedicate appunto alla mamma, che mi è piaciuta moltissimo, è quella che mi è piaciuta di più, si vede proprio l'amore, secondo me, per la mamma. Pur io che non recepisco niente, metto sempre le mani avanti. Mi sono piaciute anche Una nave funeraria, che però non è una poesia, ma è un pezzo tratto dalla sua versione del brano di Beowulf, che però mi è piaciuto. Non ho mai letto il Beowulf, quindi dovrei recuperare, però devo dire che ho apprezzato. La cosa che mi ha impressionato di come scrive Hini è la grande cultura che traspare dalle sue parole. Cioè, ogni parola di queste poesie, ogni poesia all'interno ha un mondo di cultura e conoscenza che traspare. Cioè, tu te ne accorgi pur non sapendo esattamente che cosa sia, tu senti proprio la conoscenza che lui ha, lo senti attraverso le sue parole, è impressionante. Non mi stupisco perché comunque questo qui ha fatto un'insegnante a Oxford, ha fatto un'insegnante a Harvard, quindi non è che ci mettono il primo a fare queste cose. Sono rimasta davvero stupita. Allora, ripeto, a me purtroppo non piace la poesia, ma per chi è un amante, io lo consiglio tantissimo, perché secondo me è davvero impressionante. Cioè, pure a me che non è piaciuto, ha detto qualcosa. Molto poco, perché io appunto ricepisco niente, però sono rimasta davvero impressionata. Unica cosa che volevo dire, per chi avesse piacere di recuperarlo in ebook, devo dire che questo qui, Poesia Guanda, fatto così, è davvero ben fatto. Perché infatti ha tutta l'introduzione di base, eccetera. Però ogni poesia ha poi sotto il collegamento diretto con la versione italiana e integrale. Ovvero, se voi iniziate con quella italiana, andate sotto e vi collega direttamente con la stessa poesia, però in versione integrale. E viceversa, sotto c'è il link che vi ricollega. Inoltre, a fine ebook c'è un intero, delle intere pagine di note sulle varie poesie che avete letto, con curiosità, significati, significati di alcune parole. Scusate. Che mi è piaciuto un sacco. Perché comunque io che sono ignorante in materia, avere comunque delle curiosità, delle pronunce, è molto utile. Quindi, se voleste provare prima con l'ebook, questo qui è veramente fatto benissimo. Allora, questo è tutto. È il mio contributo per il progetto, purtroppo non molto di grande spessore, però spero comunque di avervi magari incuriositi, soprattutto se apprezzate la poesia. Che dirvi. Spero di avervi tenuto compagnia e ci rivediamo alla prossima. Mi raccomando, vi lascio sotto il calendario con tutti i video che escono, tutti i video che usciranno, con i vari appuntamenti settimanali e con i link ai vari canali che faranno i video. Andate a vederli perché Melania ha avuto di nuovo una idea bellissima ed è interessante. Io ho già visto tutti gli appuntamenti precedenti e chi più chi meno ha dato il suo grande contributo e ha reso interessantissimo anche personaggi che non sapevamo chi fossero. Perché io vi assicuro che questo qui non sapevo chi era, ma come tanti altri prima. E ho visto dei video davvero interessantissimi. Quindi anche un piccolo contributo come il mio, che appunto non ne capisco niente, vi assicuro che può essere uno spunto per imparare o conoscere qualcosa di nuovo. Ciao ragazzi, ci rivediamo alla prossima.